Forza bruta, calli e giravite oppure trappano avvitatore a batteria ricaricabile? Nel dubbio e magari ossessionato anche dalla paura di ritrovarmi oltre ai suddetti calli anche con una inquietante ernia inguinale. Mi dirigo all'Eurospin a comprare il trappano avvitatore ricaricabile, prodotto civetta a 39,99 euro, della Enco, che mi sembra identico ad un modello della più nota Inel, magari sfruttabile per trovare facilmente pezzi di ricambio compatibili. Spacchettato e testato al volo sia come trappano, che avvitatore, che spazzolatrice, usando accessori già in mio possesso in quanto la confezione di vendita non ne conteneva alcuno. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.